Signori, siamo ritornati qui con un nuovo video incredibile. Genoa-Modena non è il campionato di Serie B, ma è solo l'inizio di una nuova e lunga, incredibile stagione che ci vedrà probabilmente esultare tante volte, perché con Retteghi, Messias, Gudmusson, Torsby, nel chilling, la squadra secondo me sta prendendo forma molto molto nel chilling, molto molto lentamente, ma potrebbe essere finalmente una squadra buona. Comunque non perdiamoci in chiacchiere, partiamo e andiamo a Genova, perché ci aspetta alle 9. Vabbè, è un po' presto adesso, ma ci aspetta un incredibile match di Coppa Italia. Andiamo. Beh lì che... che mini... ma è... Allora, guarda che non ci ammazza. Questa è la nuova cam dei video Italo, guarda qua. Beh. Devinteris. Devinteris, in diretta, il nuovo acquisto, l'abbiamo preso in diretta, Winter, e si parla anche di Messias. Genoa Modena, 11 agosto, la situazione. Situazione. Abbiamo Winter in campo e direi che siamo messi bene, siamo tornati. Il secondo... è arrivato anche Messias. Il Messias è tutto buio qua, c'è una luce solo qua. Dov'è? Dov'è? Giulio! Dov'è? Giulio! Giulio! Dov'è? 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 Lo vedo. Giulio! Eccolo! Eccolo! E non si vede, ma è arrivato anche lui! Perez e non si vede su io! Eh, va beh, dai, presentazione anche per Messias. Quindi direi che qua, la fresca non manca! inizia così Genoa-Modena guarda qua 11 di agosto spettacolo puro subito retteghi ha fatto un frasino non so se si è visto subito balla in mezzo di destra retteghi 40 secondi mamma mia retteghi 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 mamma mia 40 secondi non me lo aspettavo ho fatto un po' di casino perché qua abbiamo cambiato le inquadrature c'è della professionalità ma c'è mamma mia era impossibile prendere questo dopo 40 secondi non me lo aspettavo quindi non si è visto il gol però sulla fascia FD ho prenduto la messa dentro retteghi bam 1-0 spettacolo vai a Ron oh Tosby no 2-0 Tosby andiamo retteghi 2-6 retteghi e Tosby retteghi torsby due acquisti due gol fuori gioco vaffanculo peccato però lo lascio perché il gol di Tosby anche se fuori gioco ci sta comunque 12 minuti di qualità pure retteghi di tacco è incredibile ha pareggiato con un cross con un un buono cioè ha pareggiato con un pallone a casa in mezzo abbiamo un po' dormito abbiamo perso palla male in mezzo stavamo giocando bene le ho perso fino al trentesimo e come al solito prima disattenzione un gol poi va bene valuteremo anche quello perché la difesa non è stata impeccata però cazzo chiamano il cambio chiamano il cambio chiamano il cambio vabbè le alighe vabbè ha fatto un passaggio in tre all'ora fermate ma l'impostazione dal basso si fa solo se si è capaci se non si è capaci questa merda di impostazione dal basso ficcatevela nel culo tutti voi allenatori di serie A che volete fare questa costruzione dal basso con giocatori che non ce la possono fare fatela vediamo se riusciamo a farlo gol vasquez meno male meno male meno male no perché non mi sono come se non eh sì infatti ci è andata bene che l'abbia insegnato giù però cazzo anche vasquez cosa si chiama Johan Vasquez Johan Vasquez meno male va cazzo avevo paura qua guarda lì va meno male meno male meno male figa primo tempo così ci aspetta una stazione mamma mia brava put musso 3 a 2 stava dicendo non puoi andare da solo non puoi andare da solo e put musso è andato non l'ho ripreso ma va bene lo stesso put musso put musso put musso put musso e andiamo reteghi e andiamo ma questo è un progetto ma questo è un progetto cazzo questo reteghi non diciamo niente tanta roba reteghi put musso no si intravede un'intesa si intravede un'intesa vincente bellissimo gol del modera per modo di dire con una tentazione terzo gol diciamo che le ali è un terzo dai non è agosto magari non è in condizione una musso a questa le ali io buono martinez ma cazzo ogni tiro è gol praticamente questo portiere mi piace retteghi abbiamo tre tre gol dal modera un'altra 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 è finita è finita è finita è finita ma le ali è meglio che facciamo qualcosa finisce così 4 a 3 se iniziamo così è lunga però ci sono cose positive e qualcosa da rivedere ci vediamo con la prima campionato per una settimana ciao